Dal 9 di settembre mi sono insediato in questo nuovo reparto con incarico di comandante del reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano che è l'articolazione dell'arma forestale che svolge le funzioni di vigilanza e sorveglianza nell'area del parco. Ci troviamo davanti al reparto territoriale Carabinieri del Nucleo Forestale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano qui a Vallo della Lucania e questa mattina c'è stata la presentazione alla stampa del nuovo comandante, il colonnello Marcello Russo. Ascoltiamo le sue parole. La priorità che mi sono dato, che poi è quella che l'arma richiede ai comandanti del reparto, è sicuramente uno strettissimo raccordo con gli operatori militari sul territorio e con le istituzioni, nonché con la cittadinanza. Ritengo infatti che quando questo raccordo diventa fisiologico è naturalmente destinato a diventare funzionale ovvero i rapporti di lavoro con i nuclei sul territorio, la circolarità informativa fra i militari e con le istituzioni perché quando poi ci si confronta con onestà intellettuale i problemi e le situazioni emergono inietabilmente e si affrontano come richiede il ruolo che rivestiamo. La gestione della minaccia dei cinghiali sul territorio richiede un approccio integrato che coinvolga tutte le autorità locali. Coinvolge anche noi perché l'ente parco ha delle figure preposte al contenimento della specie e rispetto al quale ci coinvolge proprio nelle fasi di abbattimento nonché di individuazioni di queste figure. L'argomento è sicuramente scottante perché il parco già ha chiesto collaborazione diciamo una riunione di coordinamento, evidentemente ci sono zone in cui sono significativamente toccate dal fenomeno. Tenuto anche conto che l'ente parco, anche avvalendosi dell'operato dei carabini forestali, è tenuto a indennizzare i danni conclamati e accertati. Dall'abbandono illegale dei rifiuti sta diventando un problema sempre più diffuso e quale strategia intente implementare per contrastare questo fenomeno? Il controllo del territorio e la ricostruzione esatta della filiera, cioè perché il rifiuto banalmente sia un rifiuto locale o provenga da altre zone. È chiaro che questa è un'attenzione che verrà innanzitutto orientata alle zone più facilmente raggiungibili, alla viabilità primaria e quindi una volta capito come immagino, come sono certo i militari sul territorio già sappiano quali sono i produttori illegali di rifiuto perché poi è da lì che origina l'abbandono del deposito, cioè un'attività a nero, sicuramente si può disarticolare la filiera.